Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai, Nak Muay Stories. Il combattente di questo video è noto soprattutto per la sua carriera nel pugilato all'inglese, più che per la Muay Thai. Il suo nome era Yodamrong Sityotong, noto anche come Yodamrong Shingwansha, sovrannominato O. Nato nella provincia di Utaitani, nella zona settentrionale della Thailandia, iniziò con la Muay Thai, sotto la guida del famoso maestro Yodamrong. Poi passò successivamente al pugilato all'inglese professionistico, sotto la guida del promoter Song Chai. È stato il 32esimo campione del mondo di pugilato all'inglese della Thailandia, nella federazione WBA, categoria Pese Super Gallo, 122 libri. Purtroppo ha perso poi il titolo alla sua prima difesa. È stato un combattente molto forte, molto bravo. Ha avuto nella sua carriera 51 combattimenti, con 43 vittorie, di cui 18 per KO, 7 sconfitte e un pareggio. Ha combattuto molto in Thailandia contro i soldi nazionali e in Giappone, e anche con alcuni sudamericani. Dopo aver lasciato il pugilato, perché la sua carriera stava andando un po' in declino, ha iniziato a lavorare come camionista per una marca di bevande energetiche. Purtroppo è stato molto sfortunato nella vita. Infatti, sembra che non sia riuscito a guadagnare così tanto nel pugilato, come dovrebbe fare un vero campione che ha vinto una cintura così importante. Infatti, viveva da solo con la moglie in una stanza in affitto. Si ammalò di una malattia polmonare dovuta al fumo eccessivo. Per concludere, mentre era in bagno, è scivolato, ha picchiato la testa, e dopo due giorni è deceduto all'ospedale all'età di 30 anni. Purtroppo la sua vita è stata sempre una lotta con una fine tragica. Però voglio pubblicare questo suo match perché è stato un bel combattimento e per rendere omaggio a questo grande campione che ora ci ha lasciati. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!